Ciao, sono Luca Dallavalle, il tuo coach personale in questa sfida per rimetterti in forma. Con oggi concludiamo la prima settimana di lavoro. Siete soddisfatti di voi stessi? Beh, dai messaggi che ricevo direi proprio di sì. E sono veramente orgoglioso perché per molti di voi sta diventando un'abitudine irrenunciabile. Allora, chi dite? Dai, partiamo così ci divertiamo anche oggi. Iniziamo con la nostra sequenza, sempre dagli squat, sono 8, ormai avete imparato, mani alle spalle, chiudo le scapole, scendo e risalgo. Le ginocchia sono in direzione delle punte dei piedi, ricordati di sprofondare bene sul pavimento e di spingere su tutto il piede. Ben così. Chiudo bene sempre dietro le scapole. Ancora 2. E ora si va a terra per il plank. Sono 20 secondi. Giù bene, gomiti sotto le spalle, strizza bene il sedere, piccola tensione tra le scapole e rimani fermo in posizione. Resisti ancora un po'. Stai lì. Senti il lavoro sull'addome. E ok. Siamo pronti per lo step up. Mani ai fianchi. Spingo sulla gamba avanti e salgo. Cambio gamba. Ancora 4. 1. 2. 3. L'ultimo. E andiamo con il push up. Giù a terra. Chiudo bene le scapole. Tengo in alto il sedere. 1. 2. 3. 4. Stai lì bene. Gommiti a 90 gradi. Altre 2. E ora pronti per il mountain time. Chiudo la presa. Ginocchio al gomito. Sono 4 per gamba. Ancora 2 per gamba. Vermi lì. e andiamo con i dip. Prendo la mia scabellina. Chiudo bene dietro i gomiti. Scendo. E salgo. Spingo bene sul palmo della mano. Ancora 4. Ancora 4. Ultimi 2. Ok. Ce l'abbiamo fatto anche oggi. Grandissimi. Stellare sul palmo della mano. Tremai. Non pari. La mia scabellina. Autore dei sottotitici. Tiado a tutti. Tutti... Altri.